Carabinieri e guardie di finanza hanno eseguito nelle province di Gorizia, Napoli e Belluno sei misure di custodia cautelare disposte dal GIP di Trieste su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia per traffico illecito di rifiuti a carattere transnazionale. Le indagini hanno portato a scoprire lo smaltimento illecito di circa 4.500 tonnellate di rifiuti speciali e plastici provenienti da un impianto di recupero di una società del bellunese e da un'area dismessa a Borvinca, in Slovenia. Le sei persone coinvolte sono state poste agli arresti domiciliari il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo di un milione di euro profitto del reato individuato quale danno ambientale. Nel motivare le esigenze cautelare il GIP ha inoltre ricollegato la vicenda al diffuso fenomeno delle eco-mafie sottolineando i fumus della presenza della criminalità organizzata ed il particolare livello di pericolosità emersi nel corso delle indagini per le evidenti affinità dell'accaduto con dinamiche criminali tipiche dell'area napoletana.